Continua un attimo il bassoio, grazie mille mi scusi, grazie mille, così la riporto in Sud America Ecco è quello il mio portafoglio, l'ha preso il signore Si alzi un attimo mi scusi, si alzi per favore, si abbiamo preso il furbetto dei portafogli È arrivato un ragazzo con il bassoio, per favore, con un ananas qui e questa roba qui, mi tiene un attimo il bassoio? Che ho messo in Europa, ha messo un ananas nella valigia? Mi sta prendendo in giro adesso lei, ha messo un ananas in una valigia? Siete tutti d'accordo, è una banda? L'avete chiamato i carabinieri? Adesso stiamo capendo, lei chiesco, adesso stiamo chiamando, stiamo capendo Lei ha visto qualcosa? Non so, magari è la difficoltà economica, raggini, ma io non capisco A me, anche a te, non gli è che rupo in c***a Tu c***o l'ha visto? C'è una figura di c***a Allora ta c***a